Con la presentazione del libro Killer Food è ripreso il ciclo di incontri autori al campus promossi dalla Fondazione Campus di Monte San Quirico. Ospite di questo primo appuntamento, la professoressa Alessandra Guidi del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa che ha presentato il suo libro dal titolo Killer Food che racconta sotto forma di gialli le storie di morti legate ad avvelenamenti da cibo. Sì, perché ho cercato di parlare di un aspetto meno conosciuto e meno in qualche modo sfruttato dai media che è quello della sicurezza alimentare e più che altro volevo anche mettere in luce il ruolo del veterinario ispettore che è quello che sono io, che è un'eccellenza che abbiamo in Italia che rende gli alimenti sicuri nel nostro paese. L'incontro è stato moderato dai giornalisti enogastronomici Corrado Benzio e Irene Arquint ed ha dato il via alla nuova stagione di appuntamenti promossi dalla Fondazione. Anticipo infatti che già nel mese di aprile avremo altri due incontri uno con il dottor Felicori che è il direttore della reggia di Caserta e l'altro con il dottor onorato che è l'AD di MSC Crociere quindi degli incontri sulla cultura, del turismo che credo siano davvero dei momenti di alta formazione per i nostri studenti e anche un momento importante per la città. Grazie mille! Grazie mille!